Guardate dritti, guardate dritti, bene, così, ok. Poi, lei deve dire... Troppo forte? No, troppo forte! Ma non è... Troppo forte! Grande! Grande! Piccolo! Dai, dillo qua! Ah, dillo qua! Troppo forte! Dì, troppo forte! 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 E lui appena arriva, si rivolge al protagonista e si dice, non quello che Zaino è. E il protagonista è tu! Sì, questi qua che fanno la battuta! Sì, questi qua che fanno la battuta! Chi... Insieme al buro con un gruppo di ragazzi! A parte da nuovo, no? Sì! A parte da nuovo, no? Sì! A parte da ragazzi! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! Stop! Sì! Sì oré! Grazie a tutti.